Lo storico soffitto della chiesa di San Donato di Castelli in provincia di Teramo, realizzata dai maestri castellani con mille mattoni maiolicati tra il 1615 e il 1617, è stata definita dallo scrittore Carlo Levi la sistina della maiolica italiana e quest'anno compie 400 anni di vita. Un'occasione straordinaria per il rilancio della visibilità e della rinascita di Castelli che passerà attraverso un progetto pensato dall'avvocato terramano Walter Mazzitti che immagina un percorso turistico in grado di mettere in connessione il patrimonio storico-artistico risparmiato dal terremoto e renderlo fruibile al mondo, sì perché Castelli è davvero un luogo famoso al mondo. Per chi sceglie Destinazione Castelli che cosa trova? Un nuovo percorso disegnato appunto da questo progetto che mira a esaltare e mettere in evidenza quello che è il grande patrimonio storico-artistico di Castelli che non è stato fortunatamente danneggiato dal terremoto. Ovviamente si parte dalla scuola, dall'antica scuola d'arte realizzata nel 1906, il primo istituto d'arte d'Italia che oggi si chiama liceo artistico per il design che è un patrimonio straordinario all'interno del quale è custodito il famoso presepe monumentale degli anni 50 che è un unicum a livello nazionale, una grandissima esposizione di oltre 300 pezzi di arte contemporanea. Questo è un fatto già assolutamente assodato e importante. Poi c'è ovviamente scendendo in giù la cosiddetta Cappella Sistina della Maiolica Italiana che rappresenta anch'esso un unicum assolutamente straordinario che fortunatamente non è stato toccato dal terremoto. Poi c'è il museo provvisorio al centro del paese in attesa della ricostruzione invece del museo storico della ceramica castellana che è stato purtroppo molto danneggiato dai vari eventi sismici. E poi ci sono anche le botteghe storiche che possono essere aperte al pubblico con eventi particolari. Castelli è famoso in tutto il mondo. Castelli rappresenta per noi un potenziale straordinario tant'è che l'obiettivo finale è quello di pervenire alla realizzazione di una grande mostra che in questo caso dovremmo tenere a Roma per riunire in un'altra unica grande occasione perché la prima fu nella fine degli anni 80 tutta la maiolica cinquecentesca rinascimentale prodotta a Castelli e che si trova distribuita nei più grandi musei del mondo.